Oggi 6 febbraio 2011, escursione al rifugio Chigiato, partenza da Calalzo nei pressi della chiesa del Caravaggio, metri 850 sul livello del mare, per la Val d'Oten, sentiero segna via numero 260, chiesa del Caravaggio, Praccia dell'Anne, Diasa, arrivo al rifugio Chigiato a quota 1911 sul livello del mare, per un dislivello di circa 1060 metri. Il ritorno con il sentiero segna via numero 261, per la Val Vede Sanna, così abbiamo completato l'anello. Dal rifugio si ha una panoramica a 360 gradi, dalle creste di confine della Val Vizende, Alperalba, Rinaldo, Tudaio, Cridola, Monfalconi, Spalti di Toro, Picco di Roda, Duranno, Monti della Val del Piave, fino al Col Visentino e al Nevegal. Ed ancora gli Sfornioi, Sassolungo di Cibiana, Antellau e le vicinissime Marmarole. Buona visione e alla prossima! La, 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 la... La 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 la... La 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 la... 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 La la...